Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e bentornati nel secondo fantasy talk. Oggi parliamo di epic e high fantasy che penso siano i generi, il genere anzi poi dopo adesso però vediamo, che è più radicato nell'immaginario collettivo quando si parla di fantasy. Allora questa è la prima puntata di due sull'epic fantasy perché inizialmente l'avevo concepito come un unico video, poi mi sono resa conto che veniva un video immensamente lungo, so che non è un problema, ormai siete abituati, grandi e vaccinati a questo aspetto sul mio canale, però non vorrei neanche renderlo troppo tedioso. Visto che questa è una puntata importante, molto densa e ci sarà tanto di cui parlare, insomma dividiamole in due, in questo caso oggi affrontiamo la parte delle origini, dalle origini a diciamo lo sviluppo e l'affermazione del genere e poi nella prossima affronteremo invece altri capisaldi che secondo me hanno definito in maniera molto forte l'impronta dell'epic fantasy. E niente, io come sempre vi chiedo di farmi sapere cosa ne pensate perché ci tengo molto a questa serie, quindi sono curiosa di sapere il vostro parere, che sia generico, che sia sui libri di cui ho parlato, delle serie che ho affrontato e poi sono molto curiosa di sapere cosa ne pensate. E niente, io direi che come sempre mi raccomando rispettosi perché siamo qui per questo e direi che possiamo iniziare a procedere. Detto ciò, prima di iniziare una premessa importante che avevo già fatto ma rifaccio, i fantasy talks non sono un elenco della spesa, quindi lo scopo di questi video è quello di fare un percorso insieme per ricostruire i generi del fantasy di cui andremo a parlare, esplorarli un po' insieme, darvi qualche consiglio di libri che io amo profondamente ma non solo, anche perché quello di oggi, ahimè, lo ammetto, è il genere di fantasy che mi piace meno, non mi uccidete. Detto ciò, però, quindi l'esplorazione passerà attraverso una serie di titoli che, a mio parere, da ciò che ho studiato e ciò che ho sempre approfondito, possono costituire delle pietre per riuscire a capire quali sono state le evoluzioni del genere nel corso del tempo e perché. Quindi, se non c'è uno dei vostri libri preferiti, a me dispiace tanto, se c'è una serie che secondo voi è fondamentale ma io non la nomino, mi dispiace ancora, però non è questo lo scopo di fantasy talks, cioè fare l'elencone di tutte le opere è epic e high fantasy. Detto ciò, inizierei. I libri e le serie di epic fantasy sono sicuramente la tipologia di fantasy più popolare che oggi troviamo nelle librerie, negli scaffali delle biblioteche ed è anche forse il genere più riconoscibile da chi non è ferratissimo in materia di fantasy. Di nuovo, visto che i fan del genere di solito sono abbastanza vigorosi nelle loro opinioni, che è un termine gentile per descriverli, ci tengo a ripetervi che quello che andremo a vedere non è un grande elenco ma un percorso tematico. High o epic fantasy è un sottogenere del fantasy, definito dalla natura epica della sua ambientazione e dalla caratura epica dei suoi personaggi, della sua storia, delle tematiche che affronta. Il termine high fantasy è stato cognato da Lloyd Alexander nel 1971, in un saggio chiamato High Fantasy and Heroic Romance. Perché parlo di high o epic fantasy, che sono due generi praticamente sovrapponibili, anzi, addirittura ci sono tantissimi elementi in comune, però c'è una distinzione da fare. Li ho messi insieme in questo video perché credo che siano percorsi molto comuni e spesso il filo che li differenzia è troppo sottile. In questo caso, però, per quanto simili, c'è sicuramente una distinzione da fare. Live fantasy tende a concentrarsi maggiormente sulle ambientazioni, sui cambiamenti, sulle evoluzioni e sulle scelte fatte dal protagonista. Mentre l'epic fantasy, il fantasy epico, tende a concentrarsi sulla scala del conflitto, che generalmente colpisce tutto il mondo e tutto l'universo nel quale noi ci troviamo. Quindi la differenza fondamentale potrebbe essere problema e quanto è grande la scala e la vastità del suo impatto e dall'altro, invece, qual è la portata del cambiamento e dell'evoluzione della storia di un protagonista. Uno è l'epic e l'altro è la high, ma molto spesso sono demarcazioni molto sottili. Il fantasy epico tende a presentare un grandissimo cast di personaggi, mentre l'high fantasy tende a concentrarsi su un gruppo molto più ristretto. Di nuovo, sono distinzioni sottili e non sempre percepibili. Poiché spesso le opere che si riferiscono a questi generi presentano sia elementi dell'uno che dell'altro. Ed è facile capire perché questi due termini vengono usati in maniera interscambiabile. Ma parliamo di questi elementi. Quali sono gli elementi ricorrenti? Che ovviamente possono variare da opera ad opera, ma alcuni di essi sono praticamente imprescindibili. Esiste un eroe, spesso, molto spesso, di umili origini, che deve elevarsi al di sopra della propria condizione, delle proprie capacità che conosce in quel momento, all'inizio del suo percorso. Quindi elevarsi al di sopra delle proprie circostanze ed è costretto ad agire da condizioni e eventi fuori dal proprio controllo. Spesso vediamo il nostro protagonista, maschile, crescere. Vediamo questo personaggio crescere e acquisire nuova abilità, sconfiggere le probabilità e sfidare il male e la corruzione. Quel male che minaccia di prendere il controllo e rovinare la pace. L'eroe non sempre riesce nel primo tentativo a portare a casa la missione, anzi, molto spesso deve compiere un percorso ulteriore, altrimenti non ci sarebbe nemmeno la parte avvincente della storia, ma troverà sempre mezzi e motivazione o dentro di sé o dagli esterno per continuare la propria missione, per continuare quella ricerca che se mai dovesse fallire avrebbe conseguenze di portata mondiale. Le impostazioni di queste ricerche, cioè queste quest, si sviluppano generalmente su tre ambienti prevalenti. Un mondo separato dal nostro, detto secondary world, in cui a tutti gli effetti il nostro mondo non esiste nemmeno. Oppure un mondo secondario che, grazie ad un portale, viene raggiunto dal nostro mondo, ed infine un mondo secondario all'interno del nostro mondo. Il termine secondary world è stato coniato proprio da J.R.R. Tolkien, nel suo saggio Sulle fiabe, per riferirsi ad un mondo in cui è ambientata la storia, un mondo governato da leggi diverse da quelle che governano il nostro, ma comunque coerenti con se stesse. In questi mondi la magia è un elemento molto comune, ed è anche uno strumento molto richiesto a causa del potere e dell'astuzia dei personaggi malvagi che tentano ovviamente di impedire agli eroi e ai nostri personaggi di raggiungere il proprio obiettivo che coincide con la loro sconfitta. Infatti gli obiettivi dei nostri eroi tendono ad essere spesso grandiosi e comportano il salvataggio di tutto il mondo e dei suoi abitanti, del lato buono ovviamente. Un altro modo di pensare al high fantasy è quello di paragonarlo al viaggio dell'eroe. Attraverso un paesaggio estraneo in cui il viaggio e il cambiamento sia del protagonista che dei suoi compagni è tanto importante quando la ricerca, la quest, è il raggiungimento dell'obiettivo finale. La formula alla base del high fantasy o dell'epic fantasy è quella più tradizionale che conosciamo. Prende infatti spunto dall'epica antica che combina leggenda e storia per produrre un racconto che educa, intrattiene e affascina il lettore mentre segue le vicende del nostro eroe e dei suoi compagni. La fascinazione che noi abbiamo per questo tipo di narrazione ha radici molto profonde. Fin dalle fiabe, che erano infatti storie fondamentalmente umane, tramandate, espanse e diffuse nel tempo. L'altro spunto sicuramente prevalente nel high fantasy è la metodologia norrena. Infatti da qui viene attinto moltissimo dell'immaginario fantasy per i personaggi, il suo sistema e anche le sue tematiche. L'epic fantasy è intrinsecamente legato alla ricerca di risolvere un problema che affligge tutto il mondo. Un signore oscuro, un mago malvagio, un dispositivo magico che sta per distruggere tutto, un evento che scuota il mondo, insomma qualcosa che deve essere fermato o evitato. Ma andiamo, come nella scorsa puntata, su qualche tratto caratteristico del genere andando per punti. La presenza della magia. Nell'epic fantasy e nel high fantasy la magia ha una presenza molto alta. Sono infatti racconti pieni di magia. Gli eroi o le eroe possiedono abilità magiche chiave che consentono loro di sfidare il cattivo, sfidare l'antagonista che probabilmente ha esso stesso dei poteri sui quali può fare affidamento e che quindi gli consentono di minacciare l'ordine costituito. La magia è la causa sia del male che del bene. La magia è la causa del potere sia dei personaggi malvagi ma anche di quelli positivi e serve il bene e il male allo stesso modo e spesso serve al male per ostacolare il cammino del nostro protagonista mentre dall'altra parte, dal lato buono, viene concepita come qualcosa che deve essere sempre utilizzata saggiamente per essere efficace. Spesso la magia richiede grandi conoscenze per essere messa in pratica e anche un'elevata forza fisica e mentale perché può avere delle conseguenze disastrose ovviamente quando viene usata in modo errato e infatti solo chi riesce a tenere in equilibrio e usarla saggiamente la magia può far sì che essa funzioni al meglio. Passiamo invece ai personaggi e alla loro caratterizzazione che è un valore che passa da moderato ad altissimo. L'attenzione infatti in queste storie è spesso concentrata sull'eroe sulle sue scelte e sulle conseguenze che hanno proprio queste scelte sul mondo in generale l'eroe è una figura determinata, risoluta, molto dinamica perché attraversa una serie di ostacoli e riesce o a superarli o a sfuggire loro grazie spesso all'aiuto dei compagni. Tuttavia va fatta una precisazione ovvero che la caratterizzazione dei personaggi ha una variabilità nella sua consistenza in base al tempo in cui è stata scritta una determinata opera. L'epic fantasy e il live fantasy moderno tende a concentrarsi sul personaggio e sulla sua caratterizzazione mentre i classici, i grandi classici, non sono così focalizzati su questo aspetto ma tendono ad avere personaggi un po' più bidimensionali un po' meno esplorati soprattutto quando non sono il protagonista perché sono più interessati a concentrarsi sul conflitto che sul personaggio. Spesso l'eroe è un personaggio sprovveduto semplice che proviene dal basso che non conosce nulla dei fatti che avvengono fuori dal suo villaggio dal suo luogo di provenienza ma che improvvisamente si trova catapultato all'interno di questo conflitto proprio tra bene e male si ritrova coinvolto nella lotta tra di essi e poiché le circostanze lo portano ad essere l'unica persona in grado di poter sconfiggere il male inizia la sua avventura, inizia il suo percorso aiutato spesso dai compagni o da un maestro in più, a proposito di personaggi nel high fantasy sono presenti numerose creature razze diverse eccetera penso solo agli orchi alle fate agli ignomi ai folletti agli elfi e la lista continua in base alla serie passo ad un altro punto che è la complessità della trama la trama negli high e negli epic fantasy è tendenzialmente molto complessa o complessa l'obiettivo finale in fondo è quello di compiere una missione o una ricerca personale o una ricerca per conto di qualcun altro o qualcosa del genere nel complesso la trama si basa sul raggiungimento dell'obiettivo finale della missione ma per arrivare all'obiettivo finale non sarà mai un percorso facile e lineare in più il numero di personaggi e le relative storyline creeranno numerose sottotrame che renderanno tutto l'andamento della trama e della storia stessa molto complessa più movimentata di quanto non sia in realtà in modo da poter rimandare sempre di più il raggiungimento dell'obiettivo finale se no sarebbe tutto finito subito e non c'è nessun interesse a trovare una soluzione in fretta tematiche, messaggi, messaggi socio-politici invece che è un altro punto importante infatti i messaggi e le tematiche nell'ambito high fantasy sono tendenzialmente di portata molto ampia come la lotta tra il bene e il male tra la luce e il buio oppure come i grandi valori come il coraggio, l'amicizia, la lealtà e la crescita stessa del personaggio è uno degli elementi centrali poiché questo personaggio deve affrontare numerose difficoltà e quindi deve crescere e quindi deve imparare cose nuove per poter raggiungere una nuova fase per poter raggiungere una nuova fase della propria esistenza che è fondamentalmente la tematica principale di ogni viaggio dell'eroe arrivare ad una consapevolezza nuova altro punto, la violenza il livello di violenza che ci tengo sempre a includerlo perché so che non a tutti piace direi che uno degli elementi fondamentali dell'high fantasy e dell'epic fantasy è la presenza di battaglie campali combattute da grandi e numerosi eserciti e spesso non vengono tralasciate le descrizioni cruente e sanguinose le guerre spesso sono combattute in un clima che potremmo definire quasi medievale con questi eserciti vastissimi, armati, che si scontrano però c'è un elemento in più, ovvero la magia che spesso è risolutiva nei conflitti o spesso invece è il punto di stallo però spesso gli elementi magici decidono le sorti di una guerra e comunque non sempre la violenza, la parte più cruenta del conflitto viene descritta in maniera esplicita anche se è innegabile che sia un elemento presente vado avanti perché direi che è ora di partire dalle origini il padre del high fantasy è considerato da tutti universalmente J.R.R. Tolkien ovvero Tolkien con lo Hobbit ma soprattutto con il Signore degli Anelli dottavia non sono da dimenticare alcuni scrittori che prima o contemporaneamente a Tolkien hanno dato vita al genere e ne hanno utilizzati gli elementi magari in maniera inconsapevole come William Morris, Laurel Dunsany e direi quasi inconsapevolmente Eric Edison nel 1896 esce The Wells at the World's End ovvero La fonte ai confini del mondo di William Morris sebbene il romanzo sia relativamente oscuro per gli standard odierni ha avuto un'influenza davvero molto rilevante e significativa su numerosi autori moderni penso a C.S. Lewis e penso a Tolkien andando qualche anno più tardi invece si è alla raccolta Time and Gods ma soprattutto The King of Elfland's Daughter del 1924 entrambi scritti da Lord Dunsany sono due delle fonti principali alle quali hanno attinto numerosissimi scrittori soprattutto nella prima metà del Novecento ma non solo sebbene The King of Elfland's Daughter sia caduto praticamente nell'oscurità dopo la sua pubblicazione ha trovato un pubblico molto ampio molto vasto quando la Ballantine Books ha deciso di ristamparlo quindi riproporlo ai propri lettori nella collana Fantasy che pubblicò attorno al 1969 da allora infatti il romanzo è diventato uno dei più influenti e riconosciuti come tale nel mondo del fantasy vicino a questa uscita invece nel 1922 esce Il Serpente di Ouroboros di Eric Edison il critico del New York Times Edwin Clark lo ha descritto in questo modo ha l'esuberanza dei grandi appetiti e una vita vigorosa trascende tutta la vita ordinaria brucia con lo stupore e il timore reverenziale dell'eccesso Il Serpente di Ouroboros narra le vicende di un mondo situato nello spazio più profondo qui due potentissime forze si contrappongono mentre si prepara una guerra tra imperi un vero e proprio scontro tra guerrieri e stregoni che equivale allo scontro tra onore e perfidia nel frattempo si intraprende un difficilissimo viaggio che permette una montagna incrantata dove sarà possibile trovare la salvezza o la distruzione totale ma direi di arrivare alla ciccia perché già ne abbiamo parlato abbastanza abbiamo tergiversato abbastanza andiamo a quali sono i fondamentali per me capisaldi di questo genere o comunque tutte opere che hanno cambiato modificato e formato l'idea che noi abbiamo di epic fantasy ho dovuto ridurre perché se no questa puntata diventava davvero eterna e no anyway andiamo sui capisaldi e sui consigli del genere che in questo caso assomiglieranno di più a dei mattoni però non si può parlare di epic e high fantasy senza citare quello che viene riconosciuto come il padre dell'epic e high fantasy ovvero J.R.R. Tolkien non si può parlare di epic fantasy senza citare lo hobbit il signore degli anelli e il Silmarillion di John Ronald Roel Tolkien ma in questo video non sbrodollerò nozioni sulla trama di nessuno di questi tre perché li conosciamo tutti quantomeno per il film se non avete letto i libri e in più perché per il Silmarillion andrebbe fatto un discorso a parte molto lungo che noi non faremo però vorrei ragionare insieme a voi su quali sono state le vere e proprie basi fondanti del genere rispetto all'opera di Tolkien Tolkien infatti è stato un autore sicuramente molto imitato e possiamo attribuirgli in qualche modo la paternità di una fortissima schematizzazione del genere secondo anche numerosi aspetti innanzitutto il suo successo e questo non è un aspetto per nulla banale ha ridefinito il mercato moderno creando un genere di massa è vero che però dalla pubblicazione del Signore degli Anelli e dal suo successo fino ad arrivare alle pubblicazioni di nuovi autori che avessero un ampio respiro proprio come Tolkien passa abbastanza tempo tagliamo la testa al toro e direi di parlare un attimo anche del Signore degli Anelli perché il Signore degli Anelli non è affatto un lavoro solo e unicamente letterario è bensì una creazione storica sociale antropologica e linguistica Tolkien ha creato un vero e proprio universo completamente svincolato dal nostro e gli ha dato tutti gli elementi necessari alla sussistenza rendendolo autonomo e completamente indipendente fu proprio la sua grandissima passione per le lingue e il suo interesse spasmodico per la costruzione di esse per la loro origine a portarlo verso il magico regno di Arda realtà fantomatica dove ha ambientato la maggior parte delle sue storie e che diventerà nel tempo quella che noi conosciamo come la Terra di Mezzo Tolkien infatti desiderava ardentemente poter inventare una lingua nuova strutturata e articolata con un suo alfabeto e una sua grammatica al fine di poter studiare i segreti e i meccanismi che portano alla nascita di un nuovo idioma in fondo Tolkien era un linguista e la lingua è stato solo uno degli elementi che lo hanno portato a una creazione di un sistema molto più complesso che fino ad allora non era mai stato indagato così profondamente la costruzione di un intero immaginario descritto nei minimi particolari pieno di creature e abitanti dalle diverse sfaccettature con un sistema magico con le sue regole ha portato alla nascita di un modello applicabile in diversi modi che è riuscito a durare per quasi un secolo e anzi secondo me ancora oggi ritrova molti imitatori Tolkien è anche uno degli autori che più ha gettato le basi per le grandi tematiche che vengono affrontate nel mondo del fantasy e che sono tuttora presenti per citare George Martin in più Tolkien è anche uno di quegli autori che ha gettato proprio le basi per numerosissime tematiche che vengono trattate tuttora nel fantasy epico e moderno il concetto del signor oscuro la lotta tra bene e il male e l'influenza penetrante di quest'ultimo proprio attraverso tutti i livelli ad esempio onore e lealtà che sono due delle tematiche principali all'interno delle opere di Tolkien sono anche alla base dei miti finici anglosassoni celtici e scandinavi in generale perché Tolkien ne indaga gli archetipi e ne crea uno nuovo forte per molti aspetti quasi idealistico ovvero il signor oscuro Sauron contrappone agli infinitamente piccoli ovvero gli hobbit che rappresentano il bene il lato buono l'infinitamente grande l'essenza stessa del male che li minaccia Sauron è quel male così corrosivo quel male così profondo che addirittura contamina il paesaggio che addirittura è permeato nell'ambiente che lo circonda facendolo decadere ad uno stato di putrefazione di decadenza di morte dei suoi elementi ma che viene sopraffatto dalla bontà dal coraggio dall'amicizia dal sostegno reciproco e dal coraggio più puro la battaglia tra il bene e il male è proprio un elemento fondante del genere fantasy che però in questo caso è portata sia ad un livello generale quindi una grande battaglia tra il bene e il male e di tutte le forze coinvolte in questi universi ma è anche una battaglia interiore più intima che riguarda solo il singolo individuo e le decisioni che deve prendere la terra di mezzo è un mondo magico ma nel senso che è un mondo pieno di meraviglie ma in realtà c'è pochissima magia quando ci sono combattimenti Gandalf spesso combatte in prima persona non subito sfodera un incantesimo non tira fuori una palla di fuoco immediatamente ma combatte come tutti gli altri soldati Gandalf combatte di persona afferra la spada certo non mancano i momenti dove Gandalf grazie al proprio bossone grazie alla propria magia fa sentire il suo potere ma non è mai ciò che lo domina non è mai ciò che prevale di lui si tratta di cose minime se pensiamo al grande percorso che compie la storia pensiamo anche all'unico anello ciò che vediamo non è un potere illimitato è un potere che rende le persone invisibili si suppone che l'unico anello abbia un vastissimo potere di dominio ma quando Frodo lo infila scompare innanzitutto in più non può dare ordini ai Natskul in più lo rende anche debole perché Sauron lo può vedere insomma anche la magia e il potere non sono cose semplici perché il potere è qualcosa di sconosciuto è qualcosa di pericoloso in più diciamo che Tolkien dal via ha un elemento che è tanto poco realistico nel fantasy ovvero se esiste davvero un potere così grande se esiste la magia come fanno i maghi a non essere i dominatori di questi mondi perché non lo sono sarebbe facile rispondere sempre che i maghi stanno dalla parte del bene sarebbe molto bello ma sappiamo che l'essere umano è molto più complesso di così detto ciò comunque in generale io trovo l'opera di Tolkien un bellissimo tributo ai miti al folklore alle storie antiche e quindi in fondo a ciò che sono state le fondamenta della letteratura stessa poi io continuerò a non essere una fan di Tolkien per lo stile di scrittura e quindi direi che ora basta parlare di Tolkien ma andiamo su cose eh? passano diversi anni dall'uscita del Signore degli Anelli a un'opera che probabilmente riesce ad avere un impatto culturale molto ampio in questo caso io zompo c'è stato qualcosa in mezzo ma io salto direttamente al 1975 esce Il Signore degli Enigmi di Patricia McPhillip e è una delle poche donne che sentirete nominare in questo video cosa tristemente triste Patricia McPhillip è un'autrice che ha catturato davvero i cuori e l'immaginazione di migliaia e migliaia di lettori da circa la metà degli anni 70 per oltre 40 anni è una delle prime autrici fantasy ad essere stata nominata e ad aver vinto praticamente ogni premio esistente sul pianeta la trilogia del Riddle Master ovvero Il Signore degli Enigmi e Ciò che verrà dopo è una storia prettamente epica un tempo infatti i maghi erano scomparsi dal mondo e tutta la loro conoscenza era stata nascosta all'interno degli enigmi Morgon principe dei semplici agricoltori di Head è nato con tre selle sulla fronte e ha l'occasione finalmente di mostrare il proprio talento nel risolvere e decifrare questi enigmi quando scommette la propria vita per ottenere la corona del defunto Signore di Aum nel frattempo il suo mondo viene minacciato da forze maligne alcune mutaforma infatti hanno iniziato a sostituire gli amici di un tempo di una vita e ormai non ci si può affidare più di nessuno Morgon infatti viene costretto a fuggire entra a prendere un viaggio avventuroso epico potremmo dire in regni molto stili alla ricerca di risposte per il più grande enigma che deve risolvere per poter salvare la propria terra e poter scoprire il significato delle tre stelle che porta sulla fronte la storia ha diversi elementi che noi potremmo chiamare tropes quindi topoi a livello superficiale strettamente associati al genere come un mondo secondario il coming of age o il buildings roman del nostro protagonista un erede nascosto così come maghi magia creature magiche creature strane fantastiche creature fantastiche ma questi elementi che sono sicuramente quelli che attirano maggiormente il lettore all'interno della storia ciò che rende la serie così speciale è la prosa così elegante ed evocativa della McKinley che riesce davvero quasi ad immaginare un ottimo punto di conversazione tra scrittura e lettura riesce infatti ad evocare questi elementi magici che sicuramente fanno parte del mondo che ha costruito e sebbene gli elementi magici siano chiaramente presenti la McKinley è in grado di evocarli in modo che siano proprio parte integrante del mondo stesso come se semplicemente facessero parte di questo world building della storia di Morgan e delle sue tre stelle poi passiamo a qualche anno dopo esattamente nel 1977 perché esce forse un altro dei capisaldi del genere ovvero la spada di Shannara di Terry Brooks molto tempo fa l'umanità raggiunse un livello tecnologico avanzatissimo tale da non essere più in grado di controllarlo durante le battaglie apocalittiche che ne seguirono note come le grandi guerre gran parte degli esseri viventi della terra si estinse e addirittura gli stessi continenti cambiarono morfologia a seguito di questi combattimenti i sopravvissuti si dividero per razze gli umani i nani gli ignomi e i troll anche gli elfi tornarono a mostrarsi alle altre razze sebbene essi non discendessero dai sopravvissuti delle grandi guerre in questo futuristico ritorno al passato il mondo naturale è rifiorito la magia è riapparsa e si contrappone in maniera chiara alla tecnologia del passato che aveva distrutto quel mondo l'ordine dei druidi costituitosi in seguito alla rinascita delle razze era anzia della conservazione del sapere del passato e della coltivazione di un corretto uso della magia venne quasi completamente distrutto dal druido ribelle lebrona massimo conoscitore della magia nera proibita durante la seconda guerra delle razze salvo puoi essere sconfitto da Yerle Shannara grazie alla spada da lui stesso forgiata ci troviamo quindi molti anni dopo molti secoli dopo potremmo dire nella pacifica shady vale Shea Homsford mezza elfa conosce ben poco di questi avvenimenti ma Brock il signore degli inganni che tutti pensano morto sta progettando di tornare e distruggere tutto l'unica arma contro questo potere delle tenebre è la spada di Shannara che però può essere utilizzata solo e unicamente dal vero erede di Shannara su Shea quindi inconsapevolmente ultima della linea di sangue di Shannara ricadono tutte le speranze di questo mondo Shannara è quella che noi possiamo definire il magnum opus di Terry Brooks infatti la serie si sviluppa in quasi 30 volumi suddivisi però in cicli di tre il nucleo iniziale infatti è composto dalla spada di Shannara le pietre magiche di Shannara la canzone di Shannara che indagano questo mondo post apocalittico dove noi veniamo a conoscenza di ciò che era successo nel passato e invece seguiamo la storia di Shea uno degli aspetti che ho trovato più interessante riprendendo alcune parole di tutti i mondi possibili è il signore oscuro il warlock lord che in questo caso riprende sia il Sauron che il Saruman di Tolkien ma con una natura sicuramente diversa e costruita comunque in maniera magnifica la natura stessa del signore oscuro il potere che la spada di Shannara ha su di lui e la sua vera scomparsa sono forse tra le parti migliori della serie Sauron in fondo non è mai più che una forza oscura tenebrosa che filtra attraverso la terra di mezzo mentre Brooks davvero dedica pochissime pagine a il suo signore oscuro il signore degli inganni ma allo stesso tempo gli vengono dati motivi molto chiari per le sue azioni e per i suoi fallimenti che hanno senso davvero in una maniera molto diretta molto lineare sicuramente il ciclo di Shannara è uno di quelli che più di tutti deve moltissimo a Tolkien anche se molti elementi introdotti in questa serie sono differenti e sono sicuramente innovativi nel 1982 esce il segno della profezia che è il primo libro della saga dei Belgariad di David Eddings il ciclo di Belgariad è una pentalogia prettamente epic fantasy la serie infatti è composta da cinque romanzi che iniziano proprio con il segno della profezia e che sono spesso scritti insieme alla moglie Lee Shaw Eddings nella notte dei tempi il dio Aldur rubò una pietra alle stelle e ne fece un gioiello prezioso chiamato il globo il potere del gioiello era veramente molto grande e l'avido dio Thorac lo volle per sé perché attraverso di esso avrebbe potuto governare l'occidente ma quando tese la mano per toccarlo e afferrarlo il globo lo diverò tra le sue fiamme ora Thorac giace in un sonno senza fine dalla sofferenza e la pietra del potere non è ovviamente più in suo possesso e questa storia si intreccerà presto con il destino del giovane Garion la cui vita fino a quel momento trascorre serena in una fattoria dei territori ad ovest ma tutto sta per cambiare allora questa è sicuramente una saga che deve moltissimo a Tolkien un po' come tutti ma che ne reinterpreta sicuramente l'aspetto più mitico da un lato la missione la ricerca e il quest di un oggetto di un luogo del protagonista che rappresenta il suo viaggio interiore dell'uomo alla ricerca di se stesso e dall'altro lato anche la creazione di un mondo secondario studiatissimo coerente complesso che si snoda man mano che i libri procedono Eddings più che tantissimi altri gioca proprio sul filo del rasoio tra tributo e reinterpretazione di Tolkien ci si infilano numerosi topoi dell'epica cavalleresca la ricerca vittoriosa il matrimonio con la bella principessa la sconfitta del mago malvagio eppure riesce sicuramente sempre a darne un senso rinnovato alla sua opera mentre si muove in nuovi territori un folklore sempre reimmaginato e soluzioni sempre rielaborate che lo allontanano spesso dagli stereotipi non è immune ma sicuramente non mancano le cose innovative in questa serie Eddings infatti più di tutti unisce il tempo dell'avventura quello delle geste eroiche al mondo prodigioso cioè quello dell'epica cavalleresca cioè il mondo magico finalmente arriviamo a una cosa che mi piace moltissimo ovvero nel 1984 esce una delle opere alle quali io sono più legata ovvero esce la trilogia di Fionavar in realtà esce il primo romanzo chiamato La strada dei re di Guy Gabriel Cai in inglese il titolo originale è Tigana Guy Gabriel Cai ve lo dovete immaginare come un essere straordinario innanzitutto è una di quelle persone assolutamente dotate a 20 anni si trasferisce ad Oxford per assistere Christopher Tolkien per editare i lavori non ancora pubblicati dal padre di Christopher che ovviamente è morto e per lavorare insieme all'edizione del Silmarillion che fino ad allora non era mai stato pubblicato a 20 anni nelle storie di Gabrielle nella trilogia di Fionavar in questo caso ci troviamo ad assistere a due mondi il nostro che è considerato il mondo secondario e invece il Fionavar che è dove si svolge la nostra storia i protagonisti sono cinque studenti dell'Università di Toronto che stanno assistendo alla seconda conferenza celtica internazionale del professor Lorenzo Marcus che però rivelerà loro che in realtà è Loren Manto d'Argento uno sergone proveniente da un altro mondo e che chiede loro di andare con lui per tornare nel mondo di Fionavar senza troppe resistenze i cinque studenti accettano e vengono trasportati dal mago in quello che viene definito da tutti il primo fra tutti i mondi Dave si oppone proprio all'ultimo minuto e questo fa sì che nel trasporto lui finisca in una parte completamente diversa di Fionavar rispetto a tutti gli altri e infatti lui avrà diversi capitoli tutti per sé ciò che nessuno di loro sa è che mentre Loren gli ha proposto di attraversare i mondi per assistere a una celebrazione per il re la realtà è che essi avranno un ruolo fondamentale in questa nuova realtà Fionavar infatti sta per cadere nel caos il sommore di Brennin è invecchiato il suo regno isolato da tutta Fionavar è stato colpito da una siccità devastante e ben presto i cinque ragazzi si ritroveranno coinvolti in una lotta contro Rakot il distruttore imprigionato quasi mille anni prima sotto il monte Rangat al termine di una guerra che aveva visto unirsi tutti i popoli e tutte le razze del pianeta contro l'oscuro signore la trilogia di Fionavar è una serie epic fantasy che riesce a riempire le sue pagine di praticamente tutti i miti germanici e celtici che vi possono venire in mente troviamo questi nobili elfi che sembrano quasi illuminati da una luce interiore che li guida e che li porta alla ricerca di un mondo migliore la storia di un signore oscuro imprigionato da lunghissimo tempo che riesce a liberarsi e che minaccia di sovvertire tutto ciò che è stato creato e l'ordine costituito quella di Fionavar è la magica storia di un mondo che lotta per sopravvivere di una terra assediata che sceglie di lottare per la libertà è la storia di un popolo così maledetto da questo potere oscuro che lo minaccia che neppure il nome della loro terra di origine può essere pronunciato ad alta voce la profondità della psicologia dei personaggi che Guy Gabrielle Cai introduce con il chiaro intento di mostrare le ambiguità la moralità non sempre irreprensibile l'ambiguità di alcune scelte che compiono che fanno parte fondamentalmente dell'essere umano stesso sono uno dei punti più meritevoli a mio parere dell'opera di Fionavar come dicevo anche prima mentre fuori si svolge la battaglia tra il bene e il male tra la luce e il buio tutti i personaggi iniziano una lotta interiore che però è allo stesso tempo anche diverso da ciò che succede fuori sempre di più riescono a mostrare i loro lati grigi quelli ambigui si confrontano man mano con le conseguenze degli avvenimenti quindi anche con le loro sensazioni che non sempre sono bianco e nero faccio un nuovo salto perché oggi abbiamo tante cose di cui parlare e passo al 1983 Esce Lioness primo della trilogia omonima scritta di Jack Vance e in questo caso uno degli esempi più originali e brillanti di questo video i tre romanzi di questa trilogia sono ambientati nel medioevo europeo nelle mitiche Elder Islands un arcipelago tra la Spagna e la Francia potremmo dire più o meno una generazione o due prima della nascita di Re Artù la cronologia di questa serie non è mai lineare ma continuerà a saltellare tra tempi e luoghi la civiltà che noi incontriamo nelle isole è molto simile a quella che noi ritroviamo negli scritti dell'alto medioevo seppure totalmente pagana e non cristiana queste terre sono terre di palazzi scintillanti di regni incantati di regni fatati di cavalieri di streghe cattive i re i signori e i maghi si contendono il potere e sono i migliori di essi seguono il codice cavalleresco uno specchio parlante dei diavoletti re fiabeschi e altri magici abitanti quasi sporcano la brillantezza delle isole di Helder che tutto sommato è una terra gloriosa dove eroi e cattivi possono recitare i loro ruoli le isole di Helder erano la dimora di fate e di principesse di troll e di valorosi cavalieri di vecchi maghe e di malvagi furfanti ricchi di palazzi dall'architettura fine e delicata e di magnifici giardini che però sono anche scenari di intrighi misteriosi e terribili incantesimi in questa terra incantata viveva la principessa Suldrun figlia del re Casmir e della regina Sollas d'Aquitania che era fondamentalmente una principessa bellissima ma triste e solitaria in un mondo davvero crudele e violento un giorno Suldrun scopre il corpo rigettato dal mare di un giovane e il suo destino cambierà per l'eternità il naufrago infatti è Aillas erede al trono del Troicinet che in realtà è il regno rivale di Lioness i due diventano amanti e concepiscono un figlio a questo punto la storia che già pare complicata decolla ulteriormente Aillas viene infatti imprigionato e gettato in un pozzo dal quale sembrano non esserci via d'uscita durante la sua reclusione Suldrun partorisce durante la sua reclusione Suldrun partorisce il piccolo Drun per sottrarlo a morte certa viene scambiato con una neonata affattata portato da una serva dal re dei folletti nell'oscura forest di Trenta Vahier allora è una storia complicatissima molto ricca e molto densa e mi rendo conto che in realtà questo questa trama racconta pochissimo del libro però d'altronde non siamo qua per scoprirla nel dettaglio lo scopo dell'autore non è quello di rappresentare un quadro molto colto e verosimile bensì quello di divertire in qualche modo di stupire e per ottenere questo Vance attinge praticamente a tutte le fonti disponibili distorcendo e adattando quando gli è necessario il risultato finale in fondo è un'amalgama di storie individuali intrecciate fra di loro di difficile riassunto come avete visto tanto sono complesse intricate sembra quasi che l'autore volesse da un lato raccontare una storia densissima pieno di tributi alle mitologie più popolari ma dall'altro lato anche quasi prendere in giro il fantasy epico per come era stato concepito fino a quel momento cercando proprio di non prendersi altrettanto sul serio quasi come se volesse dirci che dietro ogni storia epica in realtà c'è una maschera come se fosse una vera e propria farsa il mondo delle isole è un mondo che apparentemente sembra quasi immerso in questa atmosfera fiabesca idilliaca sognante ma nasconde un vero e proprio lato brutale violento spietato chi tiene duro sopravvive ma chi si abbandona alla disperazione non arriva domani esattamente come sul drone anche in questo caso l'esperienza personale e la crescita individuale sono due temi importanti di questa serie sono le esperienze le scelte stesse dei personaggi a definire il loro valore quello che sono non la loro nascita o la loro origine e per farlo Van si imposta tutto con un'ironia molto feroce quasi brutale un senso dell'avventura molto piccaresco puntellato dalla sottile malinconia che governa queste Elder Islands che sono veramente spietate pur apparendo dall'esterno assolutamente magiche per oggi siamo arrivati alla fine perché non voglio che diventi un video lunghissimo continueremo nella prossima puntata a parlare di epic fantasy e andremo su saghe molto molto popolare e conosciute e direi che come sempre fatemi sapere cosa ne pensate se qualcuna delle serie che ho nominato vi è piaciuta l'avete letta non l'avete mai sentita neanche nominare insomma sono molto curiosa e direi che per il resto mi raccomando siate rispettosi e poi ci vediamo al prossimo video ciao